Il mio rapporto con la tradizione è un rapporto fondamentale, lo definirei così, perché ho sempre guardato l'antico. Io sono convinto che l'uomo contemporaneo è l'uomo contemporaneo perché ha un passato, non riesco a farne a meno. La mia educazione, il piacere, il guardare cose del passato ti insegna almeno a me. Ti insegna chi sei e cosa vuoi e come lo vuoi.